Bene, allora andiamo avanti. Interrogazione Gruppo Consigliare Misto su strada Zona Artigianale Croce, nel Monti, per discarica comunale. Caselli. Sì, anche qui c'è la strada che dalla statale va alla discarica. Allora ci sono 150 metri iniziali che sono stati riasfaltati e sistemati. Dopo, ma per poco, circa 300 metri, abbiamo un tratto di strada che fa veramente pena. Io che anche stamattina sono andato in discarica col trattore, bisogna andare via pian piano perché altrimenti si fanno dei salti, ci sono delle buche. e poi anche quelli che si recano alla carrozzeria, quelli che si recano in quelle ditta che sono lì, si lamentano. Quindi non penso che sia per il Comune una spesa eccessiva, livellarla, tappare almeno quelle buche, fare una cosa che sia decente. E poi va bene, è sempre competenza tua. Giorgio, se ci passi, lo vedi che tu senza bisogno che stiamo tanto qua a ricamarci sopra. Grazie. Giorgio. Anche qui il motivo della non asfaltatura, diciamo, dalla parte, dall'attraversamento, diciamo, dove c'è la griglia di Bazzoli, arrivare giù a fine pista, fine strada, non era stata fatta perché c'è in progetto la sostituzione del tubo di Irene, nei fondi davanti a Biagini e a Reverberi c'è addirittura una fogna sfonda e abbiamo già chiesto, è rotta da sostituire. I lavori dovevano essere predisposti e fatti entro giugno, poi un po' con il Covid, un po', io oggi ho sentito Genitoni e Tiziano che è il sostituto di Monti, che io avevamo già concordato questo lavoro, ma promesso che a settembre farà il lavoro. Questo non è detto che noi adesso, semmai io con l'ufficio tecnico, provvediamo semmai a chiudere qualche buco, però avevamo tardato l'asfalto perché parte proprio da dove è stata asfaltata, fino in fondo c'è la sostituzione dei tubi e tutti gli allacciamenti, perciò la strada, come avete visto a Felini in via Vittorio Veneto, in via di Vittorio, scusate, viene tutta trittata, diciamo, viene tutta rifatta. Dopo, una volta sostituito il tubo e la fogna, verrà riasfaltata tutta. Nel frattempo provvediamo semmai a chiudere qualche buco, perché anche io ero convinto che fosse un lavoro imminente, invece oggi Tiziano mi ha detto che lo faranno a settembre. Perciò anche qui grazie della segnalazione. Sono soddisfatto anche di questo. Grazie. Grazie a entrambi, Giorgio. Punto numero 4. Interrogazione del gruppo consigliare.